Sessione, rottura, rinnovamento, tre aggettivi che in questi giorni ben si associano al partito del PDL o a quello che rimane di quel popolo delle libertà Berlusconi presidente. C'è chi teme per Alfano e le sue decisioni che lo portano a sostenere più gli interessi del governo che di partito. C'è chi suppone possa seguire il destino di Fini e ci sono poi i fedelissimi di Berlusconi. Un mix di figure e situazioni che in questi giorni hanno catturato l'attenzione dei media e degli elettori. Non è una sessione e non è neanche una divisione, è una distinzione di ruoli. Come si dice, una parte più è di lotta, il caso della Santa Che, e un'altra più di governo, il caso di Alfano. Ma alla fine è un'articulazione del centro-destra che copre maggiormente l'area. Noi possiamo immaginare uno scenario delle prossime elezioni che saranno fra un anno, diciamo, dove il centro-destra va un unico leader che sostituisce naturalmente anche Berlusconi. E tutti si trovano assieme in alternativa al leader che sembra sia Renzi dal centro-sinistra. C'è anche una lotta di puro potere per dividersi l'eredità del padre Silvio. Una tragedia tipo quella greca di Edipo. E quindi da un lato Fitto, che è un giovane, non giovanissimo, ma un giovane democristiano. E dall'altro Alfano, un altro giovane democristiano, che si dividono le spoglie del Berlusconi. Ma Berlusconi è longevo. E da questa bagaria interna al PDL c'è chi trova agio. Noi ovviamente in un quadro bipolare siamo nell'area del centro-destra. Rappresentiamo la tradizione di una destra politica che in questo momento ha le idee chiare. Certamente molto più chiare di Berlusconi, che torna alla nostalgia di Forza Italia. Quasi come se la presidente del Milan riproponesse in squadra Van Basten. Van Basten non c'è più e credo che farà fatica a ripetere i risultati del 94. Mentre dall'altra parte abbiamo una classe dirigente attaccata unicamente alle proprie poltrone, che sta riproponendo un pentapartito, addirittura con un'alleanza con la sinistra, che credo dimostri quanto Alfano in questo momento sta giocando una partita tutta personale legata al suo ruolo di premier. Resta il fatto che non è una questione solo del PDL. Cambiano i nomi e la fede politica. Ma PD, PDL e Lega Nord sono tutti sulla stessa barca.